Tieni pronto a tagliare che se questo va giù, cingavona, ci porta il gommone. E quanto è forte questo delfino? Ecco qua, c'è il delfino incastrato in una rete, adesso stiamo cercando di liberarlo, ci stiamo avvicinando piano piano. Il delfino è qua davanti proprio. Cioè è solo questo di coltello? Sì, ma è tagliente. È un cucciolo. Mi sembra quasi che sono due. Sì, ma l'altro secondo me gli fa compagnia. Eccolo qua, eccolo qua. Un'enorme. Tu dici che ce la fa portarsi giù col gommone? Un grosso, cingavona sicuro. Lo tagliamo subito. Eccolo qua, quanto è bello. Due sono. Sono due. Prendo, piano, piano. Calma. Miche, questo se va giù, vogliamo iniziare a levare quest'altra cosa qua? Sì, monta la mano. Aspetta, aspetta. No, no. Aspetta, butta prima tutto questo. Taglia un po' di roba. Ma perché non la volete buttare a mare? Che succede? Eccolo qua. Bello. Wow. Dopo ci arriviamo a finire. Non ci credo. Ci siamo, Miche? Ci siamo? Hai buttato il resto, Miche? No, no. Tu stai filmando tutto. Sì, sì. Taglia da qua. Lucia, dopo quest'altra dove va qua. Ma una è incastrata, allora è notte due. Eccolo qua. Non ci credo. Mai visto una cosa del genere? Sta stanchissimo questo, io lo dicevo da prima che sta stancho. Non ci credo. E ce ne stanno altri? Ce n'è uno che deve essere rimasto... Uno piccolo. Il figlio, il figlio. Eccolo qua, incastrato dentro l'amo. Guarda, guarda. Guarda, guarda. La coda. No, ora so già come dobbiamo fare. Dobbiamo tagliare solo una parte. Tagliamo un pezzetto. Ma no. Dai. No, vabbè. Aspetta. Piano, 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 piano. Aspetta. Eccolo qua, eccolo qua. Lo devo toccare. No. Lo devo toccare. Allora non ho capito secondo me che li stiamo aiutando. Belli che siete. No, vabbè, dai. Aspettacolo. Cioè, è un film, non è vero. Questo è un film. È un film. Miki taglia, Miki taglia, Miki taglia, Miki taglia. Taglia. Eccolo qua, piccolo. Ciao. 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 Dai, è libero? Libero. Libero? È libero. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Abbiamo liberato. Abbiamo liberato. Filmato c'è tutto? Tutto, tutto. Ehi lo voglio, Giuseppe. A pagamento. 100 euro a copia. Penso che sia per poche persone, ragazzi. 100 euro a copia.